Salve a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi voglio mostrare le mie fragranze, tra cui alcune sono le mie preferite. Ne dovrò acquistarne altre perché il mio bagaglio di fragranze non terminerà mai, anche perché il mio mondo, li amo, e vi faccio vedere subito cosa ho nel mio armario. Partiamo in bellezza con il tacco di Carolina Herrera. Come non amare questa fragranza, una fragranza particolare che avevo appunto scoperto anni fa, ma molti anni fa, dove stavo appunto solo in aeroporto, dopodiché è subentrato poi nelle altre profumerie. Questa è quella da 80 ml, se non erro. Carolina Herrera infatti dà questa particularità del tacco, proprio per rendere ancora la donna un po' più sicura di sé, ed è bello proprio perché è fatta proprio col blu scuro e il dorato. E ovviamente si pigia qui per far fuoricire il profumo, ed è molto particolare. La facciata è proprio sul mobiletto, vedete, è molto molto fashion, cioè io lo trovo veramente lussuoso. E ovviamente non mi può mancare meno la mini size. Questa qui, a differenza della grande, ovviamente si leva proprio il tacco da dietro, questo ovviamente non ha il dosatore, si va a prelevare in questo modo. Ed ha delle note davvero particolari, orientali, devo dire che non è per niente forte, che può disgustare, non è dolce, e diciamo sa il fatto suo. Ovviamente è creato delle altre fraganze che sono alquanto carine, ma non come questa, che è la bottiglia ovviamente classica. Ci sono alcune che sono agrumate, quindi molto, diciamo, fruttate, altre invece sono dolci, ma mi danno più similarità ad altre profumazioni, mentre questa è unica nel suo genere. Un'altra fraganza, alquanto fantastica e la amo, è quella di Zadike Voltaire. Zadike Voltaire invece ha un gusto vanigliato, ma non è una vaniglia che disgusta. Ha un odore spettacolarissimo, cioè io lo saprei riconoscere tra mille, anche perché è una fragranza a quanto duratura. Cioè io la metto sugli abiti, ma io gli abiti li lavo in lavatrice e si sente ancora questa profumazione. Io da quando l'ho utilizzata per la prima volta non riesco a farne a meno, anche perché so che c'ha la durata, oltre che una spettacolare fragranza. Da Zadike Voltaire ovviamente fa altre fragranze, ce ne sono, c'è un'altra in particolare che mi piace, ma non è mai come questa qui classica. Io dico che restare su classico rende molto più particolare la profumazione. Anche perché quando tendono a fare altre profumazioni tendono a cambiare giusto qualche nota, oppure sostituirne una che già c'è. E ovviamente questa è unica nel suo genere e dovete provarla, soprattutto per chi come me ama le profumazioni dolci, ma non abbastanza. Nella mia collezione di profumi, un'altra profumazione fantastica è questa qui, chi non la riconosce, è la fragranza di Mugler Alien. Alien ovviamente è sempre classico, ha fatto anche la nuova versione per quanto riguarda quella dorata e goodness, che pure è buona, ma questa è sempre spettacolare. E anche questa è una delle profumazioni che quando la metto mi dura un sacco. Questa ovviamente è la boccettina ricaricabile, infatti già mi è terminata qualche volta e l'ho ricaricata. E ovviamente è in 30 ml, ma non può mancare nella mia collezione, nei miei profumi. Impossibile non metterla. E anche questo sembra un dolce, ma non quel dolce come zucchero a velo o quelle profumazioni che sanno di dolce, ma sempre un dolce particolare che sanno di profumi orientali e dovreste provare. Ovviamente a me i profumi non durano tantissimo, ma questi qua che vi ho fatto vedere, che vi ho selezionati, durano davvero tanto. Quindi acquistateli per provarli. Poi mi farete sapere se è vero o meno. Questa fragranza, io la trovo una fragranza chic, molto leggera, magari quando si va anche in un cerimonio mi piace tantissimo, perché è delicato. Allo stesso tempo c'è sempre quella nota di dolce, purtroppo sì. O magari fruttato. Ed è ovviamente di Guerlain, la Petit Robe Noir. Questa è la versione de parfum, una versione molto più buona, perché se escegite anche la de parfum Eintines, che è quello più intenso, tende a cambiare giusto qualche nota all'interno. Come succede per altre profumazioni. E questa, ovviamente, è spettacolare. Anche perché, non so, non la sentite anche quelle note tipo talco. È molto particolare. Io la trovo davvero fantastica. E Guerlain, ovviamente, rappresenta le bocettine molto carine. Se non erro, questa però ha cambiato la confezione. Perché io ho la versione, quella molto più vecchia. Io ce l'ho ovviamente da anni. E non è vero che i profumi vanno a perdersi secco. Cioè, tenuti perfettamente, pazionati, chiusi, inaromati. Quindi, profuma ancora. Ovviamente non può mancare nella mia collezione il profumo di Dior. Dior, però, non quello rosso, che dite solitamente, che è il Poison. Quello è dolcissimo. È bello, ma non è nei miei preferiti. Ma Miss Dior. Miss Dior Booming Bouquet, che è una fragranza delicata sempre. Fresca. Io la trovo una fragranza estiva. Devo dire che dura pochissimo. Non mi dura tantissimo, però, perché forse è fresca, appunto, ma ha delle note spettacolari. Ha qualche fiore all'interno, ma ha quel fiore molto delicato, che sta di chic. E, ovviamente, anche nella rappresentazione Dior non si perde mai. È bellissimo. Ovviamente, la versione di Miss Dior ne sono tanti. C'è anche quello classico, che è un po' più dolce. Il Booming Bouquet, invece, è quello più delicato. Poi, passiamo alla versione di Terre d'Hermes, in versione, ovviamente, femminile. La femminile, ovviamente, è il Twilly. Il Twilly d'Hermes, che è così. Questa è una fragranza che non mi aspettavo di essere buonissima. Questa pure mi dura, ed è particolare. Ovviamente, c'è anche la versione piccolina. Eccola qua. Il cappellino. Infatti, qui mi manca il tappo. Non so dove sia finito. Il tappo, in realtà, è così. Mi sa proprio di quelle ballerine con il bastone, che non mi viene appunto il nome. Molto particolare. E anche questa è una fragranza delicata, ma col tempo intensa, duratura. E sa il fatto suo. Quindi, diciamo, lo riconoscereste tra tanti, insomma. Io sto amando anche le perfumazioni di Givenchy. Ovviamente, ho solo la versione piccolina, ma me aggiornò sicuramente. Quella di Irresistible Givenchy, che è molto fresca, grumata e adoro. Sia questa qui, che la versione, la Inter D. Però quello rouge, non quello classico. E sarà, ovviamente, tra i miei. Provatelo, perché è davvero fantastico. E anche Irresistible, per, diciamo, delle occasioni eleganti. È bellissimo. Ovviamente, bisogna sempre provarli sulla pelle. I profumi sono tutti buoni, ma provati sulla propria pelle, cambia il pH della pelle da persona a persona. Quindi, se una persona ha quel profumo sta bene, una persona e l'altra persona magari può cambiare. Sembra, appunto, di essere un altro profumo. Perciò, ogni volta che lo acquistate, provate prima, fatevi magari una passeggiata, attendete 5 minuti e vedrete comunque le note di fondo come saranno. Le note di testa magari saranno uguali per tutti. Le note di fondo, ovviamente, tendono a cambiare. A massimo, se vi piace proprio la profumazione, dovete metterla sugli indumenti, ma dipende dagli indumenti, perché può scambiare. Ho messo al meglio una sciarpa e quindi vi durerà sicuramente e sarà comunque lo stesso. Passiamo invece a delle profumazioni molto più economiche, come quelle di Primark. Ho acquistato queste due fragranze piccoline di viaggio da 20 ml e ho preso il Wild Izalea, o Azalea, come ricordo, che è una fragranza orientale molto particolare. Invece questa qui è molto fresca. Infatti, Peach Bouquet, che dovrebbe essere quindi la pesca. Poi ci sono anche altre fragranze che mi piacevano tanto, ma queste le batteva tutte. È molto buono, ovviamente al prezzo molto economico, mi sembra, o 250 o 300 ognuno. Ho una versione invece di Narciso Rodriguez molto buona. Devo dire che questa qui mi è stata regalata e ovviamente lo teneva una farmacia che si chiama Verset, credo, Andrea Forer Parfums. Questo somiglia a Narciso Rodriguez. Ovviamente è davvero molto simile e mi dura, devo dire, tanto. Quindi, se volete quindi provare la versione di Narciso Rodriguez, se volete comunque giusto spendere di meno, potreste anche prendere questa versione qui. Oppure la versione di Stromboli Acqua Profumate di Wagon, dove appunto abbiamo le diverse fragranze. Io ovviamente ho provato anche quella di Precius, che è uguale a Montale, però non ricordo quale tipo di Montale. Ed è davvero bello e lo trovo anche molto più duraturo di questi qua. Però questo qui ho voluto provarlo proprio per avere la profumazione di Narciso Rodriguez. Ma poi ho avuto questa e anche questa qui è fantastica. Quindi posso evitare anche di acquistare Narciso, ma sarà comunque parte delle mie profumazioni, perché una cosa è un punto avere le copie e un altro punto avere quelle originali. Io, essendo amante comunque delle fragranze, non posso non averne. Passiamo invece alla profumazione di Victoria's Secret. È una fragranza, o meglio, definirla un'acqua profumata, che ho da anni, ma veramente da anni. Infatti non l'ho più trovata, ma è quella intera, più della metà. Ed è questa versione qui. Non so per chi la conosce, è Rush. È una profumazione bellissima. E non peraltro è un'acqua profumata, perché poi Victoria's Secret fa anche le profumazioni. Questa acqua profumata è davvero duratora. Cioè, io la metto, ma si sente un miglio da lontano. Cioè, veramente lascia quella scia, quella che vogliamo tutti. Ed è molto particolare. Io la adoro. Però, ovviamente, non so se fa la versione uguale. La stessa versione è cambiata con quel pack, ma non ho più visto la scritta, appunto, Rush. Però, quando mi troverò, appunto, da Victoria's Secret, vedrò di vederne uno uguale, simile. Non so, magari mi aggiornerò anche su Victoria's Secret. Poi ho questa versione, invece, di Fraganza, presa da Primor, che è un'acqua profumata. Però, devo dire la verità, non mi fa impazzire, proprio perché ne ho messa. Posso fare anche tanti spruzzi. Posso anche perdere quasi tutta la boccettina, ma non dura per niente. Poi ho preso proprio questa profumazione, perché era, appunto, particolare, ma capisco che dopo un po' è... ha un odore un po' particolare. Infatti questa costa sui 4 euro. Infatti mi ritrovo ancora il prezzo dietro. E devo dire che non... credo che non... non ritornerò ad acquistarla, anche perché io ho i profumi proprio quelli forti, originali, di Marti, oppure non... non mi va. Oddio, ho preso questo qui con la speranza che durasse, mi piacesse, ma non mi ha distato, appunto, felicità. Questo è uno dei miei ultimi profumi, ovviamente è una profumeria, vedi questo qui di Charro, penso ad esempio così, Wild Love. Infatti sono quelli lì proprio economici. E questo qui è tipo talcato, molto buono questo qui. Chi ovviamente vuole una profumazione e vuole mettere appunto tutti i giorni, questa fa caso costo ed è molto molto carino. È a tema delle mie unghie, ovviamente. E anche questa è ovviamente spettacolare. Poi ovviamente ho la bottiglia egiziana, dove all'interno ho messo la profumazione di Cleopatra, una profumazione che hanno in Egitto, e ovviamente proprio l'essenza, l'olio, e dovrò capire come utilizzarlo per ottenere l'olio indosso, ma è una bella profumazione. Questi ovviamente sono i miei profumini. Per non parlare anche ho tantissimi campioncini, tutti i marchi diversi, perché mi piace provarli, mi piace acquistarli, mi piace averne tanti, soprattutto quando vado in viaggio porto tanti campioncini per non portare le bottiglie grandi e per cambiare tutti i giorni, perché è come la vita di tutti i giorni, così è in viaggio. E ovviamente fatemi sapere se voi utilizzate qualche profumo in particolare, se tra quelli che vi ho mostrato ce li avete, se vi piacciono o meno. Se vi è piaciuto il video ovviamente vi invito a lasciare un like e se siete arrivati fino a qui ovviamente vi invito quindi a commentare e ad iscrivervi al canale. E non dimenticatevi di attivare la campanellina delle notifiche in modo tale che sarete aggiornati e sarete avvisati come una lampadina dei miei video appena usciti. E noi ovviamente ci vediamo in un altro video e io vi auguro sicuramente una buona giornata.